siamo al 20 di luglio una siccità paurosa sono qui in giro con bruna per riattivarla un momentino a fare due passi ho detto aspetta un momentino voglio dare un'occhiata qua sopra e cosa ci ho trovato il fungo il porcino ora lo cavo scusatemi sto muovendo ma d'altra parte con una mano sola facciamo una cosa io ora lo levo eccolo state a vedere è un bell'estatino sano sanissimo scoppiato come si dice praticamente la cappella la parte diciamo consistente si sdoppia dalla parte sotto del che è quella è morbida un discreto porcino che ce lo mangiamo oggi o sanzi stasera facciamo due belle spaghetti anche quattro stop